Si è tolta la vita nel cuore della notte scorsa nel garage dell'abitazione dove svolgeva la mansione di Badante una donna di origine moldave di 30 anni. A chiamare i carabinieri attorno a luna di notte dopo aver fatto la macrava scoperta è stata la madre stessa della giovane che viveva assieme a lei e ai due anziani che acudiva da tempo in una palazzina lungo la famiglia nella frazione di Calcinelli. Quello che vedete alle mie spalle è il garage nel quale a luna di notte di ieri è stato ritrovato il corpo senza vita della rumena trentenne, madre di un bimbo di 8 anni. La donna si è impiccata utilizzando un cavo elettrico fissato ad un tubo sullo soffitto del garage, sconosciute al momento le cause all'origine del gesto in quanto la 33enne non ha lasciato nessun scritto che spiegasse le motivazioni che l'hanno portata alla tragica decisione. Sul posto, oltre ai carabinieri di Saltare, anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la giovane già priva di vita al loro arrivo. La donna lascia una bambina di 8 anni che viveva con lei e la madre. La salma ora è stata ricomposta all'obitorio di Fano a disposizione del giudice che potrebbe decidere nella giornata di oggi per l'autopsia.